Dopo oltre un mese di lockdown, quindi di chiusura della maggior parte dell'attività imposta dall'emergenza sanitaria, possiamo tracciare una fotografia in chiaroscuro del comparto agroalimentare. I vari settori produttivi stanno vivendo situazioni molto diversificate tra di loro. In modo particolare per analizzare i macro settori che riguardano la nostra regione, io partirei da quello lattiero caseario, che sicuramente quello che in primis già un mese fa ha risentito delle prime influenze di questa emergenza, soprattutto sul ritiro del latte, sulla vendita dei prodotti lattiero caseari, soprattutto sui piccoli casifici delle nostre valli che sono andati un po' in difficoltà. Però nonostante questo siamo riusciti comunque a gestire tutte le partite di latte, alcune sono state anche lasciate a casa, in parte rimpinguando il progetto della polvere di latte e in altri casi risistemandole e ricollocandole su altri conferenti. Quindi la situazione sul latte ora sembra più normalizzata rispetto a 20-30 giorni fa, c'è il problema grosso, come un po' in modo trasversale su tutti i settori, della mancata vendita riferita alla ristorazione, al canale Orecca, alle mense scolastiche, alle mense universitarie, alle mense in generale. Quindi questo canale ci auguriamo, ma così sta già in parte avvenendo, è compensato un aumento delle vendite sui grandi canali della GDO, della grande distribuzione organizzata. Sicuramente la stessa cosa vale per il settore vitivinicolo, dove c'è forte preoccupazione, il nostro tessuto imprenditoriale vitivinicolo è fatto da vendite dirette, quindi in questi mesi, questo mese pasquale, di festività pasquale c'erano moltissimi turisti e consumatori cittadini che andavano ad acquistare il vino nelle nostre imprese, oltre a questo le nostre imprese fanno molto export, e quindi sono due canali completamente bloccati, e quindi è forte la preoccupazione di collocazione del vino, della vendemmia dell'anno precedente, perché quella nuova si avvicina. Quindi anche su questo settore stiamo cercando col Ministero e con istituzioni proposte di verificare, di cercare di arrivare ad un piano di collocazione del prodotto e cercare di arrivare a degli aiuti anche sul settore per cercare di stemperare questa necessità. Dopodiché c'è il settore del fluoro-vivaismo, che è quello che più di tutti ha patito questa crisi, perché ovviamente essendo un bene volutuario quello del fluoro-vivaismo, nelle prime settimane di emergenza la gente, il consumatore, si rivolgeva soprattutto alle situazioni di beni di prima necessità, però ci sono intera aziende che hanno buttato via il prodotto, piantini in orto, fiori, e quindi su questo stiamo anche attivando il Ministero con un piano specifico di risarcimento d'anni, anche con l'intervento della comunità europea, come abbiamo chiesto, come col diretti. Ci stanno arrivando da alcuni soci, prima a Bisagli e anche sul settore zootecnico, in modo particolare l'allevamento dei suini, l'allevamento della piemontese, dobbiamo cercare di essere molto attenti, e chiedo ai singoli imprenditori, ai nostri soci, di segnalarci qualsiasi tipo di caso riferito a speculazioni, i consumi continuano perché produciamo del cibo, le nostre imprese producono del cibo, le speculazioni dovunque devono emergere, devono essere segnalate, e faremo di tutto per cercare di stemperare queste speculazioni, perché non è la situazione ideale per andare a speculare in queste situazioni di emergenza.